carissimi buongiorno allora 18 giugno 2023 possiamo dire anche perché siamo di fronte a un periodo di alta pressione quindi stabilità atmosferica caldo possiamo dire che il peggio è passato insomma le api venivano male tirando le somme per riprendersi e quindi riprendersi significa riempire i nidi iniziare a portare qualcosa benario da maggio praticamente ci hanno impiegato tutto giugno e quindi siamo arrivati alla seconda metà di giugno e possiamo dire che le api stanno bene hanno messo su molta covata hanno hanno importato un po nei nidi più che altro insomma la media di perché con le bilanze non vediamo la media di 23 massimo 4 kg a settimana in surplus quindi tra quello che hanno importato quello che hanno consumato quello che hanno stoccato immagazzinato in questi 15 giorni insomma di giugno quando è iniziato più o meno a fare bel tempo hanno portato su una decina di chili insomma quelle 8 10 kg allora questa eccitazione diciamo primaverile perché in effetti è come se la primavera non ci fosse stata ha fatto sì che alcune famiglie sono rientrate un'altra volta in guardate le covate belle combatte primaverili in base di ampliamento di allargamento insomma questa fase tardiva primaverile ha fatto riemergere un po questa eccitazione sciamatoria insomma alcune famiglie sono andate in febbre ecco quelle un po la cosa non una febbre molto intensa molto accesa insomma molto vivaci come vogliamo dire una febbre hanno iniziato a qualche cupolino hanno iniziato le regine a deporre qualche cupolino a portare avanti qualche cella reale non tutte le famiglie però alcune famiglie che magari non erano andati in vebbre sciamatoria oppure che erano state in vebbre sciamatoria giusto una giornata insomma se lo sono dimenticati quel periodo lì è come se fosse arrivata adesso la primavera e quindi una cosa naturale loro c'è uno stato di benessere degli alveari c'è una certa importazione anche da un paio da un paio di giorni importante e quindi hanno iniziato a costruire queste celle reale questa è un po la situazione quindi noi siamo in un certo modo costretti a recuperare quelle giornate di lavoro che non abbiamo fatto a maggio perché non abbiamo potuto controllare le nostre famiglie in questo periodo qui e quindi ci tocca guardare questi telaini nel nido andiamo noi col metodo nostro 45 telaini ogni visita per vedere un po se la famiglia è o meno in vebbre sciamatoria questa qui già si vede che non è in vebbre sciamatoria giusto qualche cupolino ma niente di che qualche cupolino proprio così d'ufficio ma niente di di che c'è covata aperta covata fresca covata deposta in questi giorni siamo a posto ecco qua questa qua l'unica cosa adesso dobbiamo un attimo guardare a melario come va noi ci aspettiamo che questa settimana qui di bel tempo ci sono ancora delle fioriture importanti come la sulla che gli agricoltori non hanno potuto mietere ci diano qualche cosa ecco questa è un po la cosa passiati scontiamo e speriamo di passare dai quei 23 kg i 4 kg a settimana a 23 kg in una giornata quando le famiglie la settimana giusta del raccolto raccolgono in surplus un paio di kg 2 kg 2 kg e mezzo 3 kg di miele specialmente su queste fioriture importanti al giorno che significa che in una settimana riescono a riempire un bel melario ovviamente noi ci aspettiamo che riempiano questo melario qua e poi venerdì sabato gli veniamo a mettere l'altro melario stanno lavorando a melario insomma alcune famiglie gli abbiamo messo il secondo melario l'abbiamo messo sopra dove ci sono proprio questi prati di sulla vicini allora qui ci segniamo 18 giugno e mettiamo un ok vuol dire che non è in febbre sciamatoria la famiglia vediamo un po questa qui questa non era in febbre sciamatoria però un controllo bisogna farlo perché queste citazioni l'abbiamo visto abbiamo trovato diverse famiglie una buona percentuale di famiglie in questa situazione di febbre sciamatoria secondaria insomma di solito dopo il periodo primaverile che quest'anno non c'è stato tra giugno luglio insomma a cavallo di alcune fioriture importanti alcune famiglie arrivano un'altra volta in febbre sciamatoria o se non sono andate oppure più leggermente se sono già andate insomma questa cosa a cui è capitata quest'anno in maniera più particolare quindi questa settimana qua la settimana prossima quando andremo a mettere i secondi melari noi andiamo a guardare un po le famiglie dentro e vediamo un po qual è la situazione per quanto riguarda la febbre in modo che poi possiamo chiudere in maniera definitiva questo tipo di controlli hanno importato polline hanno importato nettare non tantissimo nettare perché come sapete insomma il periodo di giugno è stato caratterizzato da belle giornate la mattina e frequenti temporali pomeridiani che comunque hanno impattato non in maniera positiva sulle famiglie adesso porta una fase di bel tempo vediamo un po quello che succederà questo è un telaino di covata aperta già ci assicura che non c'è febbre la regina sta deponendo non ci sono problemi di febbre sciamatoria però noi una controllatina ma che stiamo insieme la facciamo allora hanno esteso le le covate le regine fino a sopra insomma quindi c'è stato uno spostamento dello stato di benessere degli alveari a giugno insomma da maggio a giugno a meno nelle zone nostre giusto qualche cupolino così ma niente di particolare niente di deposto 3 4 5 telaini di controllo le famiglie sono molto calme questo è anche un sintomo di benessere molte bottinatrici sono fuori al lavoro e le famiglie sono calme anche nei melari sono calme insomma questo è un buon segno vuol dire che le famiglie stanno stanno bene insomma non ci sono impatti particolarmente negativi ecco come che altrimenti quando ci sta la fame quando ci sta un po di nervosismo che non riescono a volare bene tipo quando ci sono questi temporali queste giornate uggiose le api sono un po più nervose ve ne accorgete subito andate ad aprire i melari subito vi attaccano insomma quindi mentre nei melari come adesso le api stanno lavorando ecco stanno lavorando tranquillamente adesso poi controlleremo un po con le bilanze stasera domani insomma stasettimana quello che faranno e poi per venerdì sabato prossimo il prossimo weekend ci organizziamo i secondi melari questa qua è un ok non c'è bisogno di guardare la prossima volta verremo qui guarderemo com'è la situazione dei melari se i melari stanno percolando allora se sono in base di opercolatura noi ci mettiamo il melario nuovo lo mettiamo sopra il sopra il nido se invece sono pieni stanno lavorando sì però ancora non hanno percolato allora poi noi lì andiamo a mettere sopra questo è un po la cosa certo se riusciamo a portare a casa 12 12 melari a cassetta è un ottimo risultato insomma qui abbiamo ancora diverse carte da giocare il ruolo ancora non è partito quindi il figlio ancora non è partito stiamo parlando di millefiori estivi poi se piove anche nel mese di luglio ci sarà qualcosa da raccogliere pure ad agosto le seconde le seconde fioriture di alcune foraggiere insomma vediamo un po qual è la situazione un po di castagno vediamo un po comunque per adesso la situazione sia un po riequilibrata pensavamo che ci impiegassero meno tempo per riprendersi gli alveari però purtroppo siamo sono passate tre settimane anche perché la fase di recupero è stata una fase altalenante abbiamo detto con questi temporali pomeriani quindi 18 giugno che è pure questa qua queste qua ad esempio la prossima settimana molto probabilmente vi agiamo aggiungere due melari li andremo aggiungere sopra il nido perché questi qua già sono a buon punto poi inizieranno un po ad opercolare specialmente se fa bel tempo un tempo abbastanza caldo e quindi andiamo avanti così dai ci aggiorniamo da qui a quando sarà la prossima volta magari per mettere qualche secondo melario un saluto a voi alla prossima ciao